Sì, con noi c'è Davide Crippa che è il capogruppo per il principio della rotazione in questo momento del Movimento 5 Stelle. Crippa, grazie per aver accolto il nostro invito. Intanto sentiva Roberto Vicaretti nella sua introduzione che parlava della pressione del PD per chiedere le dimissioni del sindaco di quarto. Sicuramente il PD fa pressioni quando deve guardarsi al proprio interno e in casa propria. Con più di 60 consiglieri e sottosegretari indagati, nessuno ha mai sollevato neanche internamente una questione di moralità, così come oggi stanno cercando di sollevare una questione che il Movimento ha ben analizzato e prevenuto rispetto anche alla magistratura, allontanando il consigliere dal Movimento 5 Stelle prima dell'intervento della magistratura stessa. Voi avete risposto e continuate a rispondere punto su punto, tweet su tweet alle accuse del PD. C'è una ipotesi di dimissioni del vostro sindaco? Noi stiamo analizzando insieme al sindaco tutto quello che è questa questione, perché la nostra modalità di approccio è quella di analizzare la situazione. In questo caso noi abbiamo addirittura prevenuta rispetto all'intervento della magistratura e abbiamo allontanato il consigliere dal Movimento 5 Stelle. La situazione si sta evolvendo e noi stiamo analizzando la situazione di volta in volta. Credo che l'ipocrisia del PD, che è ancora oggi con il presidente della regione Campania condannato in primo grado e mantenuto nella poltrona perché portava voti, deve solo stare zitto. Ieri c'è stata anche addirittura la condanna dell'ex assessore del PD per questioni di mafia capitale e loro cercano di venire a fare a noi lezioni di moralità, cioè questione da far ridere i polli. Questa mattina la manifestazione è a quarto organizzata dal PD, molti cittadini in piazza proprio per chiedere queste dimissioni. Lei ha risposto, ci sono approfondimenti in corso, ma nel merito, dice il PD, non rispondete alle accuse che vi vengono mosse, perché addirittura c'è la richiesta di sentire i vostri esponenti, anche quelli parlamentari, in commissione antimafia. Credo che nessuno si sottrarrà. La commissione antimafia potrà richiedere la convocazione del sindaco. Il sindaco è ben disposto ad andare in commissione antimafia, ma la situazione che la mafia stia cercando di infiltrarsi, laddove anche ci sono le nostre amministrazioni, è stata testimoniata anche da Pomezia, da Civitavecchia, da intercettazioni pubblicate sui Giordani in passato. Però non fa notizia il fatto che queste criminalità organizzate non trovano terreno per attecchire e laddove in qualche modo ci sono delle ipotesi che abbiano attecchito, noi le abbiamo allontanate in maniera preventiva. Questo tipo di situazione in altri partiti non è mai successo. Noi andiamo avanti a testa alta, consapevoli soprattutto di essere da parte della legalità. Roberto, prima di lasciarvi, posso fare una domanda al nostro ospite che lo vedo ibridato? Si sta sentendo. Onorevole, non crede che sia un problema se il sindaco non ha denunciato di essere stata ricattata e aver subito pressioni da un suo collega di partito che poi è stato espulso? Ma guardi, il problema è comprendere se quel tipo di pressioni siano ipotesi di reato, perché uno può poi andare a denunciare una questione che è una pressione politica quando si tratta di analizzare meglio la situazione. Bisogna comprendere veramente che tipo di pressioni siano state esercitate perché poi altrimenti uno va a fare una denuncia che può cadere nel vuoto perché non è sostenuta da reali pressioni di natura giudiziaria. Grazie, Roberto.